Per quello che riguarda il sossegno all'Ucraina, credo che la posizione italiana non solo sia stata chiarissima dall'inizio, ma che l'Italia abbia fatto ogni sforzo possibile e necessario per dare una mano a 360 gradi. Chiaramente ci si dividono anche le competenze. Noi ad esempio stiamo lavorando adesso con la Francia, ad esempio, su una cosa che è molto richiesta dagli ucraini, che sono insomma il tema della difesa missilistica, ma siamo arrivati al nostro sesto pacchetto di aiuti per insomma un ammontare anche significativo e importante e quindi ci siamo insomma per dove è richiesta la nostra presenza e non faremo mancare il nostro sostegno all'Ucraina, anche per arrivare al dialogo. Perché vede, io non condivido la lettura di chi dice se voi sostenete l'Ucraina mandate avanti la guerra, è esattamente il contrario per come la vedo io. Se noi non sostenessimo l'Ucraina non avremmo la pace, avremmo un'invasione. E da che mondo è mondo? La base di ogni diplomazia esiste quando le forze in campo sono in equilibrio. Aiutare l'Ucraina è l'unico modo per portare eventualmente gli attori al tavolo ed è quello che noi stiamo cercando di fare. Io sarò a Kiev nelle prossime settimane, ho concordato con il Presidente Zelensky di andare prima del 24 febbraio, cioè quando c'è l'anniversario dell'invasione proprio perché lui lavora su un piano per aprire un dialogo e su questo sicuramente nel rispetto di una pace giusta bisogna intensificare gli sforzi. Ma se pensiamo che si possa per arrivare alla pace impedire a un popolo di essere libero, a una nazione di essere sovrana beh quella non è pace e quindi l'unico modo che abbiamo è aiutare l'Ucraina.